In un recente incontro che si è svolto a Sansepolcro fra la Giunta Provinciale Aretina e gli amministratori della Valtiberina Toscana, il consigliere provinciale Alberto Santucci ha proposto la realizzazione di una bretella stradale Brancialino-Madonnuccia per garantire l'innesto diretto della Marichiese sullo svincolo già esistente dell'Ai45. Una soluzione di viabilità questa che ha portato ad una valutazione positiva e condivisa tanto dai sindaci valtiberini che dagli amministratori provinciali. D'altronde Santucci, a seguito di una propria articolata interrogazione presentata lo scorso ottobre, aveva già incassato un primo parere favolevole al progetto da parte della provincia di Arezzo. Non si tratta di un progetto faraonico dai costi stratosferici, dichiara Santucci, ma di un intervento modesto. La bretella sarà lunga infatti solo 5 chilometri e seguirà una viabilità già esistente, uscendo al chilometro 10 della Marichiese. Non necessiterà di tunnel né di viadotti, quindi avrà uno scarsissimo impatto ambientale. Questa variante riuscirà di grandissima utilità, riducendo di circa 5 minuti i tempi di percorrenza nel tratto montano Badiette d'Alda Sansepolcro, migliorando la sicurezza della strada e garantendo un'uscita dell'E45 con innesto diretto e facilmente individuabile sulla 258 per Badiette d'Alda, Sestino, Rimini e San Marino, fondamentale anche in chiave di visibilità e valorizzazione turistica dei città di comuni montani. L'ipotesi di bretella Brancialino Madonnuccia è stata studiata e proposta nel lontano 1995 dall'Università degli Studi di Firenze, in uno studio redatto a cura del professor Marchetta. In località la Madonnuccia, nel comune di Pieve Santo Stefano, l'uscita della E45 non dovrebbe essere creata ex novo, poiché già inesistente. In un convegno svoltosi a Nuova Feltria poi lo scorso 26 settembre, tanto il comune che la provincia di Rimini nonché la Repubblica di San Marino hanno seriamente apprezzato questa ipotesi progettuale proposta da me. Ricorda Santucci, l'amministrazione provinciale di Arezzo ha manifestato per iscritto analogo apprezzamento e sostegno. I sindaci della Valtiberina sono favorevoli dopo decenni di convegni interregionali, progettazioni cadute nel nulla. Dopo le osservazioni e le controproposte della provincia nel 1998, una bretella di 5 km, economica non impattante, utile in termini di sicurezza e visibilità delle nostre contrade montane, con riduzione dei tempi di percorrenza e con conseguente sollievo dei pendolari studenti e lavoratori, ce la meritiamo proprio. Ora, in calza Santucci, dalla importante fase delle prime valutazioni favorevoli, dobbiamo passare a quella operativa degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari da redigere, rappresentare e sostenere tutti insieme presso Regione, Ministero delle Infrastrutture ed ANAS. Sarà fondamentale, conclude Santucci, il sostegno unitario determinato di tutta la Valtiberina e la collaborazione politica e tecnica dell'amministrazione provinciale.